Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti causa incidente tra l'allacciamento con la 1 e Firenze in pruneta verso Siena. Si ricorda che fino all'8 dicembre a causa di una frana venuta al km 79-865 della FIPILI rimarrà chiuso per lavori il tratto al km 0 della provinciale 224, all'altezza con lo svincolo via Quaglierini a Livorno. A causa di movimenti franosi sulla statale 12 della Betone del Brennero è chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo a Mozzano. Sulla statale 64 Porrettana è chiuso invece in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina in prossimità del confine con l'Emilia. Firenze sono in corso fino al 26 marzo i lavori di asfaltatura di via Scarlatti previsti di vieti di transito nel tratto da via Palestrina a via delle Carra. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!